Lo screening di massa nell'area metropolitana pescarese, meglio replicarlo vista la percentuale di positività. Il suggerimento lo ha dato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, nella lettera rivolta ai sindaci di Pescara, Città Sant'Angelo, Spoltore e Monte Silvano, rispettivamente Carlo Masci, Matteo Perazzetti, Luciano Di Lorito e Ottavio De Martinis. Marsilio ha messo in evidenza l'andamento dei dati emersi dai tamponi rapidi, la cui positività risulta doppia rispetto alla media riscontrata sul resto del territorio provinciale e su quello regionale. Il presidente Marsilio ha sottolineato quella che è stata l'importanza dello screening di massa, uno strumento che ha consentito di avere un dato più preciso riguardo ai contagi, ma soprattutto ha evidenziato e ha riscontrato delle persone asintomatiche che, diversamente, non effettuando il tampone, sarebbero andate in giro, magari diffondendo il virus in maniera importante. Noi siamo, l'abbiamo detto, siamo pronti non soltanto a effettuare un secondo screening di massa, un terzo se ce ne occorresse, ma anche a ospitare, qualora arrivassero i vaccini, le operazioni di vaccinazione. Quindi abbiamo colto con assoluta tranquillità questa lettera, ritenendo anche noi importante lanciare un messaggio, ossia i dati sono al momento non preoccupanti, non molto preoccupanti, ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo tenere ben presente che le misure, insomma, le prescrizioni, le misure che vanno adottate sono l'unica arma che abbiamo in questo momento e come tali dobbiamo utilizzarle. Avete personale sufficiente per procedere ad un eventuale altro screening? Ecco, questo, per quello che riguarda la struttura comunale e i volontari, posso dire di sì e devo ringraziare ancora una volta perché la struttura comunale si è sempre resa disponibile ed è stata molto, molto attenta a che le operazioni si svolgessero nel miglior modo possibile. Per quello che riguarda invece il personale medico, questa è competenza della ASL e per questo noi abbiamo dato la nostra disponibilità, però è vero pure che gli screening sono per lo più effettuati da personale medico e quindi noi aspettiamo eventualmente la ASL.